Vabbè Dai vengo a lanciare Via 1 Mamma mia che brutta fine a fare Vabbè se lo meritava era brutto E ciao a tutti e benvenuti Sono Mujahedin L'ultimo dei talebani napoletani Siamo qui per organizzare il primo evento gara Di APB Reloaded Nel distretto Financial La gara si svolgerà il 15 aprile Del 2012 Alle ore 17.00 Non ve lo dimenticate E adesso andiamo a specificare La gara indiavolata Come si svolgerà Definiamo adesso alcune regole Regola numero 1 La gara si svolgerà nel distretto Financial Dove risiede Mujahedin Quindi premete il tasto U E raggiungetemi velocemente Regola numero 2 La gara si svolgerà in una porzione Diciamo della mappa Che vi mostrerò E che avrà una forma circolare Molto semplice Ecco dove si svolgerà Alle 15 Vi faccio vedere un attimino la mappa In sostanza Qui intorno Si dovranno completare tre giri Il primo che arriva sul traguardo Attenzione Attenzione Riceverà durante la sessione di gioco Quasi in tempo reale Una splendida Cisco Con Racing Kit Guardate un po' questo video Così ve la faccio vedere Ed ecco qui la Cisco Spero vi piaccia Rossa fiammante Ed è pronta A finire delle mani Come dire Di chi vincerà la gara Indiavolata Carina Datevi da fare Regola numero 3 Per uniformare i cavalli delle vetture E per dare anche a quelli appena arrivati La possibilità di partecipare Si gareggerà tutti Con la macchina Calabria 127 Senza nessuno slot Mi raccomando ragazzi Non provate ad imbrogliare Perché per queste cose Vanno perennemente Permanentemente Sono un admin Del clan Ed ho il comando Inspect In sostanza Posso vedere tutto quello Che avete equipaggiato Sul personaggio Auto E soldi E via discorrendo Mi raccomando Non vi presentate Con la macchina Calabria 127 Di serie Date sfogo Alla vostra fantasia Alla vostra creatività Nel personalizzarla Chissà Potrebbe esserci Un altro premio Per la macchina Più bella O più figa Io intanto Vi mostro la mia E invece Ecco qui La mia macchina Calabria 127 Anche detta La frocio car Rosa Carina eh Io sono pronto E voi Personalizzate 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 E adesso Definiamo la quarta regola La regola principale Che contraddistingue La gara indiavolata È che non ci sono regole Non mi frega Cosa fate Cosa tamponate Cosa fate esplodere Chi uccidete Premierò Il primo Che arriva al traguardo Al terzo giro Punto E basta Quinta regola Come ci si scrive Facilissimo Inviate una mail Di gioco Dal gioco Scusate Per iscrivervi Per iscrivervi alla gara Mettendo nell'oggetto Gara indiavolata Io sono pronto Tutto qui Adesso vi faccio vedere Il circuito Sono qui con Sexy Sbirro Si parte Questa sarà la partenza Si volta sulla sinistra È un circuito Come ho detto prima Molto semplice Ma sarà una bella Lotta concitata Si va giù per la strada Ci si gira qui Ancora a sinistra In fondo a sinistra Ancora E qui siamo sul rettilineo finale E l'arrivo Da dove siamo partiti Eccoci qua Tutto qui Ripeto Che romperanno i motori E tremerà il quartiere Di Financial Perché Ci sarà una grande gara Indiavolata Il 15 aprile del 2012 Alle ore 17.00 Mi raccomando Non mancate Non ho nient'altro Da aggiungere Tranne che augurarvi Un grosso in bocca al lupo E che vinca Il più bastardo Degli Enforcer Sono qui con me Che vi salutano Tutti i membri Del clan Fox Sburro Sexy Sbirro E Nivish Mujahideen L'ultimo dei talebani napoletani Vi saluta A presto E ciao